Di rinvio in rinvio, i mesi che diventavano anni mentre i nosoccomi della piana di Gioia Tauro venivano chiusi, uno dopo l'altro, e la storia travagliata del nuovo ospedale di Palmi, una nuova struttura che dovrebbe servire, insieme a quello di Polistena, un territorio di circa 180.000 abitanti. I lavori dovevano essere completati nel 2010, otto anni dopo la cantierizzazione dell'opera appara ancora un miraggio, tra i guai giudiziari della Tecnis, la società che doveva costruire la struttura, carotaggi dei terreni non effettuati in precedenza e un progetto definitivo ancora non realizzato. I progettisti dello studio Valle di Roma hanno chiesto rispetto al termine precedente di fine agosto, ulteriori due mesi per la presentazione del progetto definitivo, in quanto a seguito dei rilievi geognostici che sono stati effettuati a fine di gennaio, a seguito di questo si è dovuto procedere ad una modifica nella progettazione della struttura. Risolto il problema dei carotaggi, resta ancora quello relativo all'acquisto della Tecnis da parte di un'altra azienda e il cronoprogramma, stilato un anno fa, ha subito un nuovo, l'ennesimo slittamento. La presentazione del progetto definitivo ci è stato assicurato che avverrà il 30 massimo 31 ottobre. La canterizzazione con questo ulteriore slittamento non abbiamo ancora tempi certi. Francesca Altomonte per la Cineus 24